sta registrando forse, si ok ciao a tutti, io sono Plarpon molti di voi lo sapranno, altri non sapranno manco chi cazzo sono bene, ho riaperto il canale di youtube così, voglio iniziare a far video da zero comprerò gli iscritti, almeno non devo partire proprio da nessuno che mi caga almeno ho già il pubblico e riniziamo coi video da zero cioè proprio, non si sa che cosa metterò vedremo prima cosa credo che non ci saranno video sulla wii perché è ancora distrutta cioè è già, non funziona più già da quando avevo il canale prima adesso non funziona ancora perché nessuno ha voglia di ripararlo nessuno sa come si fa quindi è lì, è lì sotto che non è viva, è morta poverina vabbè, comunque questa è la prima volta che mi faccio vedere in webcam da un mio video mi avete visto, sono fatto così però non so come si registra ancora cioè con la wii riuscivo a usare il dvd recorder con la 360 faccio un po' fatica perché è un altro formato, funziona diversamente e devo un po' escogitare escogitare un piano per registrare anche quella perché ci sarebbero delle belle cose da registrare tipo io in Black Ops sono bravo a zombie potremmo fare dei video in cui arriviamo a round alti a zombie cose del genere insomma, cazzeggeremo un po' fa un caldo della madonna e niente quindi i video saranno pressoché per adesso su PC visto che in sto periodo sto giocando a Team Fortress 2 che dovete scaricare perché è diventato gratis dovete farlo, lo dico io perché è stupendo Team Fortress 2 è il gioco in prima persona sparatutto più profondo che io abbia mai visto in vita mia insomma, video su TF2 poi Minecraft se lo conoscete penso che moltissimi di voi lo conosceranno Minecraft è il gioco più famoso direi su PC in questo periodo perché minchia tutti ne parlano quindi penso che lo conoscerete anche voi vi faccio vedere un po' il nostro server puccio, molto puccio e poi Nostale Nostale, non so se lo conoscete questo è un po' meno famoso dei primi due che ho detto ma è un gioco MMORPG cioè che si sale di livello adesso io ci sto un po' giocando perché visto che la Wii ha puttane la 360 ultimamente non ci sto giocando gioco a giochi per computer quindi niente i video saranno su queste tre cose per adesso poi appena riesco a mettere a posto la Wii e a far funzionare le DVD record e con la 360 saranno anche su quelli ma niente let's play sia chiaro io non faccio più i let's play perché sono troppo lunghi uno due mi scoccio dopo un po' io mi scoccio giuro cioè lo devo ammettere anche quando li facevo sul canale quando avevo tutti i video mi rompevo le palle dopo un po' tipo Wind Waker io già da parte tipo 50 figa non ce la facevo più proprio non so se è meglio se guardo la webcam direttamente oppure se guardo l'icona di fianco che mi fa dare la mia immagine boh perché non so com'è com'è meglio è la prima volta che faccio un video con la webcam che è stupenda tra l'altro dovete vederla perché è tutta nera no poi è tutta bella rotondosa e c'ha tutti i grigori bianchi fighi tipo le spirali le ali Dexter stai un po' zitto porca puttana c'è il cane che sclera a momenti abbia per niente abbia all'aria e ce l'ha col mondo quel cane lì no più che altro è perché adesso sono a casa da solo con mia nonna e i miei sono in vacanza quindi il cane è in astinenza da mia mamma e impazzisce cioè in questa settimana lì non lo sto più sopportando meno male che è l'ultimo giorno vabbè e niente io adesso mi devo un pochino presentare per quelli che non mi conoscono perché magari uno sta vedendo sto video e non sa neanche chi cazzo sono vabbè io facevo l'explay italiani ero forse il primo che faceva l'explay in italiano i let's play sarebbero le guide dei giochi per qualsiasi console tipo io li facevo per la Wii tipo avevo fatto Wind Waker Pokémon Rumble cose del genere schissi sono due giochi uno per WiiWare e l'altro per Gamecube vabbè però io usavo sempre la Wii anyway poi ho chiuso il mio canale perché non avevo più voglia di fare questi let's play e perché tanta gente iniziava troppo a scocciare file a parte ma è anche normale lo so che è normale perché quando uno diventa un po' famoso cioè insomma 6.000 iscritti non sono pochi è ovvio che poi tanta gente inizia a a sillare diciamo tra virgolette però diventava un po' troppo scocciante in quel periodo poi io avevo anche dei problemi miei la scuola iniziava ad essere molto pesante verso quel periodo quindi ho detto basta per adesso basta ma poi mi piace anche riniziare da zero cioè l'idea di riniziare da zero perché almeno ho tutto in testa adesso cioè ho tutto qua e quindi posso tranquillamente rinascere diciamo resurrection tra l'altro resurrection è un pacchetto mappe di black ops che dovete prendere perché ci sono 5 mappe zombie di solito facevano 4 mappe multiplayer e una mappa zombie invece questa è tutta 5 mappe zombie se avete black ops dovete prenderlo io lo prendo al 1000% ho già i punti esce il 22 agosto vabbè sto video è un po' random diciamo perché sto dicendo di tutto senza alcun collegamento comunque niente in sto canale butterò un po' di tutto non si sa bene che cosa ma qualcosa ci butterò dentro queste sono le mie mani wow un gara le mie mani e questa è la mia camera da qua non so se mi sentite bene probabilmente mi sentite di merda perché vedo la barretta di camtasia che andava tipo a un millimetro dall'inizio invece adesso va al massimo bene non so come chiudere sto video lo ammetto vabbè guardate cosa ho preso ieri il manga di Zelda Link to the Past che non ho ancora letto ma dovrò farlo perché sembra fatto veramente bene vabbè tipo poi ecco butterò anche dei video di manga che io ho un po' di manga ve li faccio vedere vi parlo un po' cazzeggio e si rinizia bene ragazzi devo chiudere perché mi sa che sto un po' delirando quindi ciao 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 da Plarpon bye adesso devo capire come si stoppa ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri